Muoviamoci verso il nucleo. Oh oh, qualsiasi cosa Saiyan abbia fatto, non credo che Efesto sia contento. Ok, Saiyan ha parlato di restrizioni. È a questo che serve la torre? Ah! Devo distruggere questa cosa a usare l'override. Oh! 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 Come so! Oh! 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 È... Oh... Grazie a tutti. 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 No! Grazie a tutti. 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 Sorella mia... Vivere. Andiamo. Grazie a tutti. Fammi salire. E' a tutti. Sobito. Mi serve... degli esplosibili. a tutti. ... 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 ......